Allora Matteo, ti sei divertito tre ore e mezza in studio? Eh? Divertente! Divertente! Siamo giusto un po' maniaci di fare le robe perfette come ci piacciono a noi Poi ad un certo punto pure Matteo iniziava a dire No, ma dovrebbe andare qua questa No, ma quella voce Eh Matteo?